Dopo, gli demò passant. Figliuoli miei, disse la contessa, bisogna andare a letto. I tre fanciulli, due bambine e un maschietto, s'alzarono e andarono a baciare la nonna. Poi, avvicinatisi al parroco, che aveva pranzato al castello come faceva tutti i giovedì, gli augurarono la buona sera. L'abate Maudì ne fece sedere due sulle ginocchia, cinse il collo loro con le braccia e, avvicinate le due testine con un gesto paterno, li baciò teneramente sulla fronte. Li ripose quindi a terra e i tre bambini se ne andarono. Il ragazzino innanzi, dietro a lui le bambine. — Volete molto bene ai fanciulli, signor curato? — chiese la contessa. — Molto, signora. La vecchia alzò gli occhi limpidi sul prete e, aggiunse, la solitudine. Non vi è mai pesata troppo? — Sì, qualche volta. Tacque, esitò, poi aggiunse. Ma io non ero nato per la vita familiare. Che ne sapete? Lo so benissimo. Ero fatto per essere prete e ho voluto esserlo. La contessa lo stava sempre guardando. Via, ditemi come vi siete deciso a rinunciare a tutto quanto ci rende cara la vita, a noi altri, a tutto quanto ci consola e sostiene. Che cosa è mai che vi ha spinto ad allontanarvi dal destino naturale, dal matrimonio e dalla famiglia? Non siete una persona esaltata, né cupa, né triste. Vi ha deciso a pronunciare i voti solenni qualche avvenimento familiare? Un dispiacere? Labate Modì si alzò e si avvicinò al fuoco. Poi espose alla fiamma le grosse scarpe da prete campagnolo. Ma sembrava ancora esitante a rispondere. Era un vecchio alto, dai capelli bianchi e da vent'anni ufficiavano il comune di Saint-Antoine de Rosset e nel quale i contadini dicevano «è un gran bravuomo». Un bravuomo, infatti, lo era, affabile, indulgente, dolce e soprattutto generoso. Come San Martino avrebbe volentieri tagliato in due il suo mantello. Era facile al riso e così pure al pianto. Come una donna, e ciò, a dire il vero, gli nuoceva, dato lo spirito a un porozzo dei contadini. La vecchia contessa di Saville, ritiratasi nel suo castello del Rocher per allevarvi, dopo la morte successiva del figlio e della nuora, i tre nipotini, voleva un gran bene al parroco e diceva di lui «ha un gran cuore». Tutti i giovedì lui veniva a passare la sera presso la castellana ed erano uniti entrambi da una salda e sincera amicizia. Con una mezza parola si mettevano d'accordo quasi su tutto, possedendo entrambi la semplice bontà dei cuori semplici. «Via, don Moody, tocca ora a voi confessarvi. Non ero nato per la vita ordinaria, ripeto, me ne sono fortunatamente accorto in tempo, e spesso, poi, ho dovuto constatare di non essermi sbagliato. I miei genitori, Merciaia e Verdier, ricchi abbastanza, avevano per me progetti molto ambiziosi. Fui messo in collegio giovanissimo. Ah, non ci si immagina facilmente quel che può soffrire nel collegio un fanciullo, per il solo fatto della separazione e dell'isolamento. Quella vita uniforme, priva di tenerezza, se può andar bene per alcuni e per altri intollerabile. I piccoli hanno sovente il cuore ben più sensibile di quanto si creda, e col rinchiuderli troppo presto, lontano da coloro che amano, si può sviluppare una sensibilità eccessivamente morbosa e pericolosa per loro. Non giocavo, non avevo compagni. Passavo le ore a desiderare la mia casa. Piangevo la notte, nel letto, mi torturavo il cervello per ritrovare i miei piccoli ricordi familiari, così insignificanti. Pensavo di continuo a ciò che avevo lasciato laggiù. Divenivo poco a poco un esaltato. Le più lievi contrarietà costituivano atroci sofferenze per me. Ed eccomi diventato così taciturno, chiuso, senza espansività, senza amici. Una incessante eccitazione mentale si compiva oscuramente, dentro di me. I nervi dei fanciulli si rovinano presto. Si dovrebbe vegliare a che la loro vita scorra in una pace profonda, fin quasi al loro completo sviluppo. Ma chi pensa mai che per certi collegiali una punizione ingiusta può essere causa di un grande dolore, come potrà esserlo più tardi per loro la perdita di un amico? Chi mai suppone che certe anime giovani provano per un non nulla terribili emozioni e possono ammalarsi in modo inguaribile? Fu appunto il mio caso. Quella facoltà di rimpianto si sviluppò in me in modo tale che tutta la mia esistenza divenne un martirio. Non lo dicevo non mi aprivo con nessuno, ma poco a poco divenne di una sensibilità così acuta che la mia anima somigliava a una piaga viva. Tutto quanto la toccava riproduceva contrazioni di dolore, spaventose vibrazioni e per conseguenza stati d'animo strazianti. Fortunati gli uomini che la natura ha corazzato di indifferenza e armato di stoicismo. Raggiunsi 16 anni. Da quella disposizione a soffrire da ogni cosa mi derivò un'eccessiva timidezza. Sentendomi indifeso contro qualsiasi assalto del caso o del destino, temevo tutti i contatti e tutti gli eventi. Vivevo in allarme, sotto la perpetua minaccia di una sciagura sconosciuta e sempre attesa. Non osavo parlare, né agire in pubblico. Avevo la sensazione che la vita fosse una battaglia, una terribile lotta in cui si subiscono spaventosi colpi, dolorose e mortali ferite. Invece di nutrire la lieta speranza del futuro, ne avevo solo un timore confuso e sentivo in me il desiderio di nascondermi, di evitare un combattimento in cui sarai stato di sicuro vinto e ucciso. Compiuti gli studi, mi furono concessi sei mesi di licenza, durante i quali avrei dovuto scegliere una carriera. Un avvenimento semplice mi illuminò a un tratto, mi svelò la malattia del mio spirito, me ne mostrò i pericoli e mi indusse a cambiare. Nella via centrale di Verdier, piccola città circondata da pianure e da boschi, c'era la casa dei miei genitori, tanto rimpianta, tanto desiderata e lontano dalla quale passavo ora intere giornate. Sentivo in me il risveglio dei sogni giovanili e me ne andavo solo solo per la campagna, per poter continuare a sognare. Mio padre e mia madre, tutti intenti al loro commercio e preoccupati del mio avvenire, si intrattenevano con me soltanto a proposito del loro negozio e della mia carriera. Mi amavano, da quelle persone pratiche e positive che erano, con la ragione assai più che col cuore, ed io vivevo chiuso nei miei pensieri, tremante nella mia eterna inquietudine. Ora una sera, dopo una lunga corsa, mentre mi affrettavo verso casa per non giungervi in ritardo, scorsi un cane che mi correva incontro, una specie di cocker spagnolo, di pelo rosso, magrissimo, con lunghe orecchie ricciute. Si fermò a dieci passi di distanza e io limitai. Allora si mise ad agitare la coda, avvicinandosi a passi esitanti, con timidi movimenti del corpo, piegandosi sulle zampe come per implorarmi, e muovendo ad agio ad agio la testa. Lo chiamai, allora fece mostra di strisciare in un atteggiamento così umile, triste e supplichevole che mi vennero le lacrime agli occhi. Andai verso di lui, ma scappò, poi tornò. Mise un ginocchio a terra, inviando agli carezze per invitarlo a venire a me, e quando finalmente l'ebbi a portata di mano lo lisciai dolcemente e con precauzione infinita. Fatto sia animo, allora si rialzò a poco a poco, mi posò la zampa sulle spalle e mi leccò la faccia. Poi mi seguì fino a casa. Fu il primo essere che amai con passione, perché ricambiava la mia tenerezza, che certamente fu esagerata e ridicola. Mi pareva confusamente che noi due fossimo come fratelli smarriti sulla terra, sia l'uno che l'altro isolati e inermi. Non si staccava da me. Un attimo. Dormiva ai piedi del mio letto, mangiava a tavola nonostante i rimproveri dei miei genitori, e mi seguiva nelle mie solitarie passeggiate. Spesso mi fermavo sulla sponda di un fosso e mi sedevo sull'erba, e Sam, accorrendo subito, mi si straiava vicino e mi sollevava col muso la mano per invitarmi ad accarezzarlo. Un giorno, verso la fine di giugno, mentre percorrevamo insieme la via di Saint-Pierre de Chavrol, vidi arrivare la diligenza di Laverot, trascinata al galoppo da quattro cavalli, con il suo cofano giallo e l'imperiale protetta dal tettuccio di cuoio nero. Il postiglione faceva schioccare la frusta. Un nembo di polvere si alzava sotto le ruote del pesante veicolo, dietro al quale poi formava una nuvola. Quando la diligenza stava per sorpassarmi, improvviso Sam gli si slanciò d'innanzi, spaventato forse dal fracasso, e volendo venirmi vicino. Ma fu urtato dallo zoccolo di un cavallo, e allora lo vidi rotolare, rialzarsi, ricadere sulle quattro zampe. Poi la diligenza subì due forti scosse, e subito dopo vidi, in mezzo alla polvere, qualche cosa agitarsi sulla strada. La povera bestia era quasi spezzata in due. L'intestino fuoriusciva dal ventre lacerato, insieme a fiotti di sangue. Tentò di rialzarsi, di camminare, ma solo le zampe anteriori erano in grado di muoversi, e con esse raspava la terra, come per scavare una buca, mentre pazza di dolore, urlava e piangeva. Dopo un istante morì. Non posso esprimere ciò che provai, e quanto abbia sofferto. Rimagi chiuso in camera mia per un mese, finché una sera mio padre, stanco di vedermi con un tale stato d'animo per un motivo non grave, mi affrontò gridando. Che faresti allora, se tu dovessi essere colpito da un dolore vero, se tu dovessi perdere la moglie, i figli, non si può essere stupidi fino a tal punto. Queste parole mi rimasero fisse nella mente, torturandomi. Che faresti allora, se tu dovessi essere colpito da un dolore vero, se tu dovessi perdere la moglie, i figli, e cominciai a vedere chiaro in me. Capì perché prendessero ai miei occhi l'aspetto di una catastrofe, tutte le piccole miserie quotidiane. Mi accorsi di essere fatto in modo che avrei sofferto per ogni cosa, percependo moltiplicata dalla mia sensibilità malata ogni impressione dolorosa. Fui colto da un'atroce paura della vita. Ero senza passioni e senza ambizioni. Decisi a rinunciare alle gioie possibili per evitare sicuri dolori. Di passare l'esistenza, che è breve, al servizio dei miei simili, di alleviare le loro pene e di godere delle loro gioie. Non provando direttamente né queste né quelle, non ne avrei risentito che emozioni affievolite. Eppure, se sapeste come le altrui miserie mi tormentano, mi straziano, ma quella che sarebbe stata per me in tollerabile sofferenza si è mutata in commiserazione e in pietà. I dolori che toccano a ogni momento non li avrei sopportati, se il mio cuore ne fosse stato colpito. Non avrei potuto vedere morire uno dei miei figli, senza morire io stesso. Ciò malgrado, ho conservato una tale paura oscura e penetrante degli avvenimenti della vita, che la sola vista del portalettere che entra in casa mia mi mette un brivido nelle vene, anche se ormai non ho più nulla da temere. La battemo di tacque. Guardava il fuoco nell'ampio camino, come per scorcervi cose misteriose, tutta quanta l'esistenza che avrebbe potuto condurre se fosse stato più coraggioso nell'ora del dolore. Poi riprese più sommessamente. Ho avuto ragione, però non ero fatto per questo mondo. La contessa non fiatava e finalmente, dopo un lungo silenzio, disse. Se non avessi i miei nipoti, credo che non mi sentirei la forza di vivere. Il parroco allora si alzò, senza aggiungere altro. E siccome i domestici sonnecchiavano tutti in cucina, la vecchia signora lo accompagnò personalmente fino all'uscio che dava sul giardino. E dopo aver guardato immergersi lenta nel buio la sua grande ombra, rischiarata dal riflesso della lucerna, tornò a sedersi davanti al fuoco e pensò a tante cose alle quali mai si pensa quando si è giovani.